No, non è questo il titolo. Ah, pensavo... Ora vi lasciamo al film, Human... Ma prima un saluto al nostro maestro, Francesco Cossiga. Io e il signorezio rispetto a lui, siamo dei principianti. Oh, Franceschino Cossiga è tutta la vita che dà i numeri. Se li ha dati anche oggi. Ciao Francesco! Vieni a trovarci che ti diamo il cappello. Alla prossima! Sì! Quando Susanna stava nel salù c'erano i cattivi e buoni. Invisibile, solo tu sai. Può un assorbente invisibile farti sentire così sicura e disinvolta? L'Inesidea Ultra può e l'invisibile. Fra tutti l'Inesidea è il più sottile, ma l'assorbenza è davvero speciale. Cattura il liquido all'interno e lo trasforma in morbido gel. Vedi? Invisibile, solo tu sai. L'Inesidea Ultra, l'invisibile. Solo tu sai quanto protegge. Chiari amici, buonasera. Tra poco, per il ciclo Filmissimi, andrà in onda per la prima volta su Canale 5 il film fantastico per tutta la famiglia. Joe Mangi, interpretato da Robin Williams. A più tardi. Questo programma è presentato da Pompea, calze e collante. E da Müller. Fate l'amore con il sapore. L'amore con il sapore. Moëte Chandon, dalla natura all'arte Rinfresca la bocca, scalda i sensi È Saila, un corpo di menta, un cuore di liquirizia Saila, la menta con un'anima Un incontro Un corpo che scalda e colora la vita Naturalmente, il metano Ditelo con le parole, ma esprimetevi con i colori Nokia 5110 è il primo telefono cellulare che dà alla tua libertà nuove variopinte espressioni Basta un clic per cambiare il colore del tuo telefono ogni volta che vuoi Nokia 5110, con i suoi cover colorati, scatena la tua libertà di espressione A Natale, regalatene di tutti i colori Nokia, connecting people Un foglio di carta a casa a volte è troppo grande, altre è troppo piccolo Ecco perché il nuovo Bounty Select ha fogli più piccoli Così puoi scegliere ogni volta la giusta quantità di carta Al posto di un foglio normale puoi prendere un foglio di Select, quando te ne serve poco Due fogli di Select per gli usi normali O più fogli di Select quando te ne serve davvero tanto Una struttura a nido d'ape più resistente Nuovo Bounty Select Super assorbente, anche bagnato e resistente Con fogli su misura Perché un uomo quando si rade deve adattare il suo viso? Philly Shape presenta Reflex Action Il rivoluzionario sistema di rasatura che si adatta tridimensionalmente Sia rientrando per aderire le forme converse del viso Sia sporgendo per le forme concave Philly Shape Reflex Action L'uomo non ha più bisogno di adattarsi Il carattere è tutto Oggi ancora di più Opel Astra Station Wagon Club Da lire 26.850.000 L'auto che riflette il tuo mondo Sono importanti messaggi per me? No, per lei niente Ma per loro sì Messaggi sperlari Messaggi per piacere E per me niente Ci sarebbe il conto Il conto? Dai si fa la romana Alla banca Monte dei Paschi di Siena Trovi le polizze Monte Paschi Vita Valorizzano i tuoi risparmi Integrano la pensione Proteggono la famiglia Monte dei Paschi di Siena Conti perché non sei solo un conto Se il mondo sarebbe Tutti dei bambini piccoli Sarebbe un mondo bellissimo In prima visione su Canale 5 Il film tratto dal nuovo libro di Marcello D'Orta L'autore di Io speriamo che me la cavo E' vero che glielo trovate voi? Un padre? Sì ma lo guardo Quello sta contento Con Leo Gullotta e Nino Manfredi Una storia dolce e amara Voi non volevate fare missionari In Africa spano tutti i giorni Perché qua no? Io non vorrei proprio diventare grande Ma ho paura che prima o poi dovrò Dio ci ha creato gratis Un'esclusiva a Canale 5 E poi? E finì Martedì 1 e mercoledì 2 dicembre